Al Franchi subito in avvio, dopo 20 secondi un calcio di punizione per il Milan, battuto a sorpresa a favore di Maldini. Parte il cross di Maldini, il colpo di testa di Birov e il Milan è in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco. Tira un fortissimo vento che disturba naturalmente i giocatori, rivediamo il cross ben calibrato da Maldini, il colpo di testa di Birov, toldo e battuto.